Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento dedicato al calcio di Serie C, al Taranto in particolare, rosso-blu dunque nel cuore del mese del mercato di riparazione, gennaio è un mese davvero particolare in cui accade di tutto e di più. Il primo febbraio per fortuna si concluderà questa finestra di mercato che va ad incastonarsi, innescarsi direi proprio nel cuore, nel mezzo della stagione agonistica e secondo me non fa bene, poi ognuno ha la sua idea, però bisogna dire che tutte queste voci di mercato e non mi riferisco soltanto al Taranto, ma a tutte le squadre sicuramente non sono positive, non sono cose che viaggiano in maniera parallela al calcio e neanche in sintonia, quindi vanno in contrasto. Fatta questa premessa col cuore, io saluto gli ospiti, abbiamo il preparatore atletico del Taranto, il professor Giuseppe Ciciliello, grazie prof. Grazie a voi, buonasera a tutti. Così come viene chiamato in gergo sul campo, il prof, grazie al nostro preparatore atletico, tra l'altro è uno staff bruttissimo, quello del Taranto che si compone non solo del professor Ciciliello ma anche di altri professionisti che sono costantemente a contatto con la squadra. Roberto Donofrio, ciao Roberto. Ciao Gianni, buonasera. Insomma, nelle ultime ore è successo di tutto e di più come si suol dire, chi viene, chi potrebbe andare, chi potrebbe venire, insomma il bello e il brutto del mercato. Gianni è il mercato, l'hai detto tu prima, probabilmente è un mercato molto lungo, probabilmente un mercato che non fa bene a nessuno, il mio pensiero personale che probabilmente fa bene a quelli che sono gli operatori di questo mercato, parlo di procuratori, direttori e quant'altro, ma comunque siamo abituati, vediamo il calcio ormai da tanti anni, puntualmente succedono delle cose che, ahimè, a noi tifosi probabilmente possono anche non piacere, però fanno parte del calcio. È giusto che ogni squadra provi a rinforzarsi al meglio, è giusto che le società facciano i conti poi con quello che è un discorso attuale, chi di classifica, chi di budget, ognuno deve fare il suo. Noi siamo chiaramente qua a guardare perché siamo spettatori di tutto quello che accade, poi se vuoi dopo entriamo chiaramente nel merito del TAR. Certo, intanto diamo le notizie di giornata, quelle belle e fresche, quelle che ci piacciono. È arrivato Mirko Miceli che è un trentenne difensore centrale di grande esperienza, anche di livello qualitativo direi elevato, va a sommarsi all'arrivo di Michael De Marchi, punto centrale, un metro e novanta, un attaccante prelevato dalla Padova che nel suo passato ha giocato anche con la maglia del Pescara, del Sud Tirol, insomma un giocatore che ha 28 anni ma di esperienza sicuramente ne ha, nonostante la sua giovane età perché ha giocato anche in piazze di livello. Lo sentiremo, lo sentiremo anche Miceli, anzi se siete d'accordo io inizierei subito con le prime dichiarazioni, nel frattempo vorrei però ringraziare tutti coloro che già ci stanno scrivendo, che ci stanno inviando messaggi e noi cercheremo di leggere come sempre, ci sforzeremo per leggere tutti i messaggi che ci state inviando, siamo in diretta anche sui social, oltre che sul 92 e sullo streaming Antena Sud Extra. Vediamo l'intervista che Cristian Cesario questo pomeriggio ha fatto con Mirko Miceli, questo giocatore che è stato prelevato dalla Turris, ma ha un importante passato soprattutto proprio con la Virtus Franca Villa perché ha disputato due stagioni importanti di livello come dicevamo e poi è un giocatore che ha avuto una bella carriera lunga, ma sentiamolo, sentiamolo al microfono di Cristian Cesario, subito dopo il suo primo allenamento in casacca rosso-blu. Mirko Miceli, nuovo volto del Taranto, innanzitutto benvenuto, arrivi dalla Turris, quali sono le aspettative in merito a questa nuova avventura rosso-blu? Grazie, grazie del benvenuto, le aspettative sono quelle di potermi rimettermi in gioco dopo un po' di mesi un po' particolari, quindi per questo ringrazio il mister che mi ha rivoluto alla sua corte, quindi spero di ripagare la fiducia verso lui, verso la squadra. Dimensione centrale che conosce già molto bene il girone C, Virtus Franca Villa, Turris, cosa pensi di questo girone, per come ti stai volendo in questo momento? Ma quest'anno più degli altri anni è un girone molto equilibrato, anche nella parte bassa della classifica, ma soprattutto nella parte alta, penso che sarà dura fino alla fine, quindi un girone bello con piazze importanti e fino alla fine ne vedremo delle belle. Perché ripartire da Taranto? Perché l'ho appena detto, ringrazio il mister che mi ha voluto perché è una piazza importante, ovviamente non devo dirlo io, perché ho veramente tanta voglia di rimettermi in gioco, ho fame, anche nonostante l'età, però voglio fare bene. Per un dimensione centrale spesso c'è anche il guizzo vincente sui calci piazzati, quali sono invece le tue caratteristiche anche dal punto di vista tecnico? Beh, fortunatamente sono un difensore che qualche gollettino nella sua carriera l'ha fatto, ne ho 16, quindi l'anno scorso non ho fatto gol, però col mister che è molto bravo sulle palline attive spero che ci riuscirò. Il mister Capuano lo ritrovi a distanza di qualche anno, dalla Selle Benedettese adesso con il Taranto, come l'hai ritrovato già dopo la prima seduta di allenamento? Sempre lo stesso, sempre uguale, sempre il solito mister, quindi sono contentissimo. Il gruppo, un gruppo che fino a questo momento ha conquistato comunque un quinto posto in classifica, quali sono le tue aspettative per questa seconda parte della stagione e cosa speri di poter dare alla causa Ionica? Sicuramente posso dare il mio contributo in fase di esperienza, sull'aspetto umano, poi quando sarò chiamato in causa cercherò di dare il meglio di me stesso in campo, il gruppo conosco diversi ragazzi per averci giocato insieme e diversi giocatori per averli affrontati da avversario, quindi sono felice di essere qua. Un saluto infine alla tifoseria Rosso Blu. Niente, spero di ripagare la fiducia anche dei tifosi, di dare il mio meglio e di sudare la maglia come voi volete. Grazie. Grazie a voi. Eccolo qui dunque Mirko Miceli, prof che stato d'animo regna all'interno dello spogliatoio sul campo, la preparazione è ripresa ieri in vista della sfida di Messina allo stedio di San Filippo in programma domenica prossima alle 14, attenzione, quindi un orario particolare. L'anno scorso si giocò alle 12.30 addirittura all'ora di pranzo, quest'anno un po' più tardi alle 14. Ecco, l'atmosfera che si respira nello spogliatoio Rosso Blu in questi giorni. La stessa atmosfera che ha contraddistinto le scorse settimane, quindi una squadra carica, serena, consapevole e cosciente di quello che è il suo percorso e quindi non c'è stato nessun momento, nessuna notizia che ha scalfito l'umore dei ragazzi. Un gruppo, non perché ho la fortuna di prepararlo, ma davvero coeso, fatto di primis da ragazzi e da uomini che danno il 100% in ogni allenamento che poi ovviamente si vede, si denota in campo. Oggi è tornato ad allenarsi Antonini, Romano non c'era, come l'hai visto? No, Mattias è un professionista, quindi si è allenato come sempre, diciamo che sono la persona meno indicata in questo momento per parlare di Antonini, però per quanto riguarda l'aspetto... Ma come l'hai visto, lo stato d'anno, io parlo di stato d'anno. L'aspetto, sì, per quanto riguarda l'aspetto prettamente dell'umore, è un ragazzo tranquillo, ha svolto il suo allenamento sempre con la massima obbligazione ed edizione a lavoro. Ecco, poi Roberto c'è questo dibattito che si è alimentato molto, no? Sulle insistenze del Catanzaro che cerca Antonini, il giocatore inevitabilmente ascolta, sa queste cose e in qualche modo viene condizionato, se così possiamo definire, anche se Mattias Antonini lo conosciamo benissimo, è un vero professionista, un gran professionista, questo va sottolineato. Però siamo tutti esseri umani, andare a giocare in Serie B con una prospettiva di promozione in Serie A, un contratto, diciamo, triennale con una squadra che vuole arrivare nella massima divisione, penso che sia legittimo per un calciatore ambire a questo e quindi Capuano è stato molto chiaro, si è alimentato molto il dibattito nel corso della trasmissione che Antena Sud ha fatto ieri con Flavio Insalata a BC Calcio, si è parlato molto di questo aspetto perché Capuano lo sentiremo perché ve la riproporremo, questa intervista di Capuano in chiusura di trasmissione, lui dice che questi calciatori che sono venuti da noi a dire voglio andare via, noi abbiamo dovuto accontentarli perché gente scontenta nello spoletore non le vogliamo tenere, anche se ci sono i contratti poi e lì poi decide la società. Allora Gianni, ho visto la trasmissione, ho visto l'intervista di mister Capuano e una cosa è chiara, lui voleva sicuramente chiarire il fatto che nessuno ha mandato via, nessuno, nel senso che poi sia per il caso di Antonini che di quello di Romano, io l'unica cosa che dico, ne parlavamo prima a telecamera rispetto al prof, la tempistica, cioè è vero che c'è un mercato, ma è anche vero che il Tarot in questo momento deve affrontare tre partite importanti, di cui una col Messina e due in casa, Benevento e Monterosi, i ragazzi è giusto che facciano il loro percorso, però poi c'è quella che secondo me deve essere una cosa importante che è la riconoscenza, io credo che molti dei giocatori che sono stati scelti da mister Capuano, come sempre lui ha detto, li ha scelti per qualità umane, conosciamo tutti Mattias che è un ragazzo straordinario, ci mancherebbe, però è proprio Mattias che deve fare chiarezza su questo, cioè a mio modo di vedere un giocatore ha la possibilità di dire, bene signori, ok io andrò, però faccio un esempio, io domenica intanto gioco col Taranto e su questo non si discute, poi vediamo, il problema è proprio alimentare certe situazioni che danneggiano una società e il giocatore si deve assumere le sue responsabilità, qui parliamo proprio di un qualcosa che destabilizza un po' l'ambiente, più esterno che interno, devo essere sincero, però il mio invito ai giocatori è quello di fare anche loro un po' di chiarezza, io adesso non so se Antonio Romani è andato via e ancora a Taranto, non lo so Gianni, forse qualche informazione in più ce la sai tu, però… Per quello che sappiamo oggi non c'era per la seconda volta consecutiva all'allenamento, pare che ormai sia destinato verso Giuliano, squadra che milita nel Giugno di Cilio della Serie C, quindi nello stesso campionato del Taranto, quindi queste sono le notizie che abbiamo. Al suo posto, ti interrompo, non so se Gianfranco Medillo ha la possibilità di farsi vedere la foto che gli ho inviato, verrà Simone Tascone che è questo centrocampista centrale di grande esperienza, è fortissimo, forse lì qualcosa… Romano, attenzione, io ero affezionato molto a Romano, perché è un ragazzo serio, un ragazzo bravo, in campo ha dato sempre l'anima, un ragazzo che faceva più pressi, però Tascone… Allora, Tascone va secondo me a colmare quello che era un po' in questo momento, quello che serviva al Taranto, Tascone è uno che sa fare tutte le due le fasi benissimo. Romano e Calvano sono due giocatori che, non lo dico io, però l'hanno sempre detto i allenatori, sono due giocatori che sono molto più idonei nel rompere il gioco, ma non nella costruzione del gioco. Io credo che con Tascone, e sono felicissimo che arrivi insieme a Calvano, beh, il centrocampo del Taranto è molto più completo. Quindi Gianni, chiudo il discorso dei giocatori del mercato, devono fare un po' di chiarezza anche loro. Io credo che in questo momento mi auguro di vedere Antonini giocare a Messina, perché è una partita per noi fondamentale. Il prof mi conferma che era concentrato nell'allenamento, quindi io spero che tutto venga rinviato di almeno una settimana, in modo tale che il Taranto possa poi affrontare al meglio queste tre gare che per noi sono importanti. Poi c'è chi dice che il Taranto farà cassa, non farà cassa. Io dico una cosa, abbiamo sempre detto che poi alla fine noi dobbiamo creare comunque dei giocatori che possano essere anche vendibili. Ci sta, ci sta che Antonini vada in piazze migliori, ci sta che una società possa fare comunque cassa, migliorare la sua situazione, investire con questi soldi. Quindi io sinceramente sono molto fiducioso, anche perché poi comunque abbiamo Capuano, mister Capuano che merita fiducia, e abbiamo un presidente che fino ad oggi, devo dire, è sempre stato vicino al mister. Quindi io direi di stare tutti calmi, aspettiamo e intanto se veramente arriva Tascone, chapeau. Ovviamente, notizie di mercato perché è conteso anche quello Tascone, Simone questo è quello dell'Entella, poi c'è un altro Tascone, quello del Cerignola, quindi ci sono che anche un altro buon giocatore. C'è da verificare anche la fattibilità di questa operazione perché non è fatta, insomma, come non è fatta ancora ufficialmente neanche al Foggia, quindi vedremo poi alla fine questo derby su questo calciatore come andrà a finire. Intanto vorrei un parere su Micelli, ecco, fisicamente come l'hai visto, prof? No, un ragazzo che si è sempre allenato, comunque un ragazzo strutturato, non ho scopo di certo io, sicuramente ci potrà dare una grossa mano, si è subito messo a disposizione dello staff e del gruppo, quindi le sensazioni sono altamente positive. Allora, nel frattempo volevo cominciare a leggere qualche messaggio, buonasera, scrive questo telespettatore Carlo Saluzzi, il quale dice, venerdì, nell'ultima partita che il Taranto ha giocato, eccolo qui il messaggio, sono andati sotto la curva con la mano sullo stemma del Taranto, dopo due giorni chiedono di andare via, ci vuole rispetto per la società e i tifosi, saluti Carlo Saluzzi. E ancora, vediamo, buonasera, questa sera tante notizie, però non smantellate la squadra, state sgonfiando l'entusiasmo Taranto da Enzuccio di Paolo VI, ma in realtà non si sta smantellando la squadra, perché poi tenete presente che questa è una squadra che, sì, è vero, l'ipotesi è che al momento è ancora un'ipotesi, perché il presidente Giove è stato chiarissimo, ha detto il giocatore, Antolini, andrà via da Taranto a fine campionato, se ci saranno offerte congrue per il potenziale del ragazzo, quindi lo ha detto quando ci fu l'offerta del Brescia. Poi si è creata questa situazione di una sorta di vortice sul ragazzo, il mancano allenamento di ieri, tutta una serie di notizie che si sono rimbalzate tra Puglia e Calabria, alla fine però Antolini si sta allenando col Taranto, quindi non è escluso che possa essere convocato e giocare a Messina e che rimanga nel Taranto, quindi questa, attenzione, non è ancora stato ceduto nessuno, soltanto Cianci è ufficiale al Catania, anche egli a detta di Capuano aveva chiesto di essere ceduto e Romano che se n'è andato perché ha utilizzato una clausa recessoria che era prevista dal suo contratto e molto probabilmente si accaserà al Giuliano, quindi però sono arrivati pure due giocatori importanti come De Marchi e Miceli, perché sono giocatori, non è che i primi due che passavano davanti a Lovigliano, sono venite a giocare se ci avete le scarpe ad alto. E scelti da mister Capuano, cioè voglio dire comunque in tutto questo la La garanzia per noi tifosi è mister Capuano, cioè lui ha scelto i giocatori, è vero probabilmente diciamo che forse è più sul Romano che non su Antonini, però credo che poi alla fine vivendo lo spogliatoio, vivendo i ragazzi, io credo che un mister sa cosa si deve aspettare, quindi io non credo che mister Capuano sia impreparato a questa situazione, lo sappiamo benissimo, anzi io credo, credo, ne sono quasi convinto che il Taranto non ha avuto solo offerte per Antonini, avrà avuto offerte sicuramente per Bifulco, per Canutè, ma di cosa stiamo parlando? Però se dobbiamo allarmarci, perché con tutto il rispetto per Mattias, un giocatore del Taranto va via, dai su, cerchiamo di essere anche noi un po' più sereni, si è creata una bella armonia e l'armonia si è creata anche grazie a noi tifosi, l'armonia si è creata perché l'ambiente esterno si è ricompattato con l'ambiente interno, quindi non ci dimentichiamo che l'uomo in più del Taranto non è, non me ne vogliono i giocatori, né Antonini né nessun altro, è tutto quello che gira intorno al Taranto, cioè il tifo, la stampa, poi i risultati aiutano, quindi io dico stiamo tutti sereni, Antonini sta ancora qua, ma qualora dovesse essere ceduto, scusatemi, ma esiste solo Mattias Antonini? E come abbiamo fatto quando non c'era lui? Cioè, intanto Capuano comunque sta cercando un esterno destro, perché l'aveva detto, serve un esterno destro, serve un braccetto, un difensore e Miceli, è arrivato anche Travaglini, dimenticavo, quindi Travaglini, De Marchi e Miceli, poi un centrocampista adesso che vada a sostituire a livello numerico quello che serve per completare il campionato e arrivare serenamente fino alla fine, Romano, perché comunque lì in mezzo, scusate se è poco, ma sono Calvano, Zonta e Fiorani, che sono tutti e tre disponibili per due posti, perché adesso il 3-4-3 è quello che viene battezzato come il modulo di Mister Capuano, quindi la situazione è questa, al momento non c'è stato nessun smantellamento della Rosa, ci sono stati tre ingaggi a fronte di due cessioni, pertanto abbiamo un giocatore in più rispetto alla finestra di mercato di gennaio. Gianni, e aggiungo perché tu forse non l'avi sicuramente già detto, ma lo voglio sottolineare, non c'è stata la volontà del Taranto di cedere, ma è la volontà di due giocatori che hanno chiesto di essere ceduti, cioè è ben diverso, ho sentito dire gente che ha detto no, ma bisogna trattenerli a forza, io sono proprio contrario a trattenere qualcuno che con la testa è già da un'altra parte, anche perché quel qualcuno ti potrebbe fare dei danni irriparabili, quindi se possiamo forse è meglio cedere quel qualcuno, fare cassa, cassa, scusate se a qualcuno il termine fare cassa non piace, però parliamo di società di calcio, fare cassa e reinvestire quei soldi magari per qualcuno che vuole restare a Taranto, ma non è una critica a Mattias, Mattias deve fare una grande carriera e glielo auguriamo tutti, ripeto personalmente in questo momento un po' particolare per il campionato dove siamo lì a un punto dalla seconda, magari ci voleva un po' più di tranquillità, ma mister Capuano è abituato a non stare mai tranquillo. Intanto il prossimo arrivo dal punto di vista tattico che serve è l'esterno di destra, perché Capuano molto spesso è contento di giocare con due balcini sugli esterni, i cosiddetti quarti con Panico e Ferrara, Ferrara non ci sarà a Messina perché è stato squalificato dopo l'ammunizione contro il Picerno, di venerdì scorso e quindi questo è il problema, perché Mastro Monaco come sta? Mastro neanche per domenica penso che non sia disponibile, ovviamente lo staff medico che è molto attento con a capo il dottor Volpe ci potrà nel corso della settimana dire lo sviluppo della situazione di Mastro, comunque ha preso una botta, quindi un trauma sul costato e quindi al momento dovrebbe essere out. Certo, voglio dire Gianni, quindi c'è anche da andare a riempire questo vuoto, ma questo lo sapevamo, il mercato serve per questo e non potevamo pensare di comprare soltanto senza cedere, ripeto qua nessuno vuole smantellare, poi io ho avuto il piacere veramente ieri sera di vedere l'intervista a mister Capuano che come dicevi tu la manderai e credo che mister Capuano sicuramente per chi non l'ha vista con grande, grande passione, credo che fa chiarezza. Intanto vediamo questa che si preannuncia, poi a noi piace definire così, la rivoluzione del mercato, vediamo il servizio di Vito Di Noi che ci spiega quello che sta accadendo, quello che è accaduto e quello che potrebbe accadere. Rilanciare, non smantellare, le ultime notizie di mercato hanno generato apprezzione tra i tifosi del Taranto dopo Cianci, anche Antonini e Romano sono finiti in lista di sbarco, ma Capuano ai microfoni di Antenna Sud è stato categorico, la priorità della società non è fare cassa e chiunque arriverà sostituirà degnamente coloro che hanno deciso autonomamente, precisazione doverosa di andare via. Le operazioni di mercato in casa Taranto finora hanno seguito una direzione ben precisa, sono approdati in rosso-blu Travellini, De Marchi e Miceli, giocatori ritenuti funzionali al gioco di Capuano, tutto fatto anche per Tascone della Virtus Entella. L'obiettivo per il tramite di queste operazioni è stato quello di non farsi trovare impreparati rispetto alle partenze, De Marchi non a caso e il sostituto di Cianci, Travellini quello di Ainz, Miceli quello di Antonini e Tascone sarà quello di Romano. Si cerca ancora un esterno a destra e poi si proverà il colpaccio falco, Tarantino Doc il classe 92 punta al rilancio dopo la poco fortunata parentesi alla Stella Rossa, operazione a oggi difficile, forse impossibile, ma entro la fine del mercato qualcosa potrebbe muoversi. Intanto Tommasini non tornerà perché è andato alla Lucchese, quindi non ci sarà questo ritorno che sarebbe stato ospicabile sinceramente, però ha deciso di andare a giocare lì il calciatore e poi Lino, misurale da Cassino, ci saluta e noi ne ricambiamo affettuosamente, ci ringrazia. In merito da Antonini è giusto che il giocatore vada a Catanzaro per questo salto di qualità e speriamo bene che il Taranto possa riequilibrare le forze con giocatori di esperienza. Vedete, poi esprimete il vostro parere perché qui ci troviamo di fronte a una situazione classica, devo dire che di queste situazioni ne abbiamo vissute a dozzine e non solo a Taranto, in tutte le piazze calcistiche tra i professionisti e non, quindi è così, funziona così. Quando fai una finestra di mercato nel bel mezzo del campionato, è così, non è perdo tempo come si dice in Puglia. Però ti devo dire anche un'altra cosa, pensiamo al fatto che comunque il Taranto sta andando bene, noi abbiamo giocatori che vengono comunque ricercati dal mercato perché il Taranto è tra virgolette la sorpresa del campionato, quindi io sono orgoglioso di vedere un Antonini che è richiesto da tantissime squadre, però d'altro canto ti dico anche che è giusto che le società che vogliono prendere Antonini diano al Taranto società un compenso importante che ci possa permettere poi di riequilibrare il mercato, però è così, hai ragione tu, è il mercato, ci sta. Intanto questa classifica toglietela subito perché è vecchia, perché siamo alla ventunesima giornata e non alla ventesima, lo so che voi siete dei nostalgici, a volte dice che il passato è bello, anche a me piace il passato, la storia, però le classifiche devono essere messe in onda, quelle giuste. Allora, per quanto riguarda il nuovo Taranto, abbiamo provato, adesso vedremo anche dal punto di vista dello schieramento in campo, sempre basandoci sul 3-4-3, poi devo trovare il tempo per parlare anche di Messina Taranto, questo lo vorrei fare, ma lo sono imposto proprio professionalmente. Intanto andiamoci a sentire un altro nuovo volto che abbiamo ascoltato in esclusiva, si tratta di Michael De Marchi, questo attaccante che già ieri ha fatto il suo primo allenamento e ha firmato con il Taranto, quindi è arrivato a completare l'organico del reparto offensivo dopo la lacuna lasciata dalla partenza di Cianci. Michael De Marchi, 29 anni, centravanti, attaccante, centravanti come si diceva una volta, proveniente dal Padova, primo allenamento col Taranto, sensazioni? Molto positive, sono arrivato ieri, sono contento di essere qua, oggi è il primo allenamento, ho conosciuto i ragazzi e sono contento di essere qui. 37 punti in classifica, lì davanti una mucchiata, quindi un campionato tutto da giocare, quindi gli stimoli e ci sono tutti. Ci sono, ci sono, secondo me dobbiamo tenere l'umiltà alta, piedi per terra e sognare in grande. Come calciatore, un centravanti di quelli classici, una punta centrale, un'area di rigore? Sì, sì, sono una punta centrale, prediligo il gioco sullo spazio e sono convinto che qui cercherò e proverò di dare spazio alle mie qualità, alle mie caratteristiche. Questa è una squadra costruita da Mr. Capuano, oggi hai avuto la possibilità di conoscerlo al lavoro per la prima volta, che impressione ti ha fatto? Anche qui molto positive, di una persona seria e competente e quindi io voglio solo mettermi alla massima disposizione per poter dare il meglio. Sì, è la mia prima esperienza nel Girone C, anche qua sono molto entusiasto di fare questo cambiamento grande per distanza di casa eccetera, però ripeto l'affronto con grande serenità, grande positività. Una piazza importante, storica, quella ionica, però si è abituato, Pescara, Padova, insomma, sono piazze altrettanto di livello. Sì, 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 la scelta è ricaduta anche per questo, penso che le pressioni e le tensioni possono essere anche una cosa stimolante per i giocatori e quindi sì, facciamo un'altra esperienza positiva anche da questo, importante anche da questo punto di vista e bene, insomma, sono contento per questo. Dal punto di vista fisico, atletico, come va? Pronto a giocare anche per esempio domenica prossima a Messina? Pronti, siamo pronti. Ammetto che ho avuto un piccolo infortuna al piede, quindi arrivo da un periodo di stop, però insomma ci sarà modo per allenarsi e riprendere la forma il prima possibile. Che cosa conosci di Taranto e del Taranto della tifoseria Rosso Blu? Allora, in realtà molto poco perché è la prima volta che arrivo in questa città, anche per vederla, non sono mai stato, però mi sono immediatamente informato sulla città, la storia, la passione dei tifosi, è una città calda e si respira un'aria veramente positiva da questo punto di vista e quindi contento anche per questo. Lo chiediamo a tutti i nuovi arrivati, il messaggio, la tifoseria Tarantina? Guarda, io sono qua con grande umiltà, voglio cercare di dare il massimo e poi vediamo cosa succede. Tanti messaggi, una domanda, davvero ringrazio tutti i telespettatori, tra l'altro stiamo facendo il pieno di ascolti, buonasera, si parla tanto ma nessuno fa caso a quanto è forte Ciccio Orlando, è vero perché è tornato Francesco Orlando che conosciamo, cioè che fa cose pazzesche in campo nelle ultime due partite, mi riferisco alla partita con il Latina in casa e quella con il Picerno ha fatto numeri, numeri, seri. Poi vediamo questo pomeriggio Antonini raccastellanera, insieme ad altri calciatori, l'inaugurazione del club Erasmo Iacovone, la presenza fa ben sperare nella sua permanenza Mimmo da Bari. Ma ve l'ho detto, ve l'ho detto, allora io voglio velocemente, voglio raccontare un aneddoto di quanto possa essere fittizio questo calciomercato di gennaio, perché quello di giugno sì c'è, va bene, quello estivo, ma questo di gennaio, io ricordo un episodio 1992, il Taranto era in Serie B e si giocava a Venezia, la partita era Venezia-Taranto, la squadra Rosso Blu in ritiro all'Hotel Lido con l'allora direttore sportivo che era Iacobucci, compianto direttore sportivo Rosso Blu e il presidente del Taranto era Donato Carelli, purtroppo anche lì non c'è più. Il sabato prima della partita venne fuori la notizia che il Taranto aveva ripreso Maiellaro ed era fatto, perché nella campagna acquisti eccessioni di riparazione, accade così, che tu parli col calciatore, vieni, questo è l'accordo sì, ok, va bene, poi magari chiudi, ti chiamano un'altra squadra e tu dici, va bene, vengo lì e poi magari nel frattempo quegli altri sono rimasti convinti di questa cosa, nel giro di poche ore si crea un po' di confusione, ma non è colpa di nessuno, è così che va il calcio e fu fatto un comunicato stampa dal Taranto, il Taranto ha ingaggiato Maiellaro ed era gennaio del 92, quindi che cosa accadde? O del 93, adesso non ricordo, che fu data la notizia, il Taranto giocava col Venezia quel giorno e Sogliano che era il direttore sportivo del Venezia, lesse questa notizia e disse guardate che Maiellaro l'abbiamo preso noi, lo disse che era in spogliatoio il presidente del Taranto e io ero testimone di questo incontro e disse ma come se l'ho preso io? Dice no, veramente l'ho preso io, alla fine Maiellaro andò a Venezia, ve lo ricordate questo episodio? Quindi questo vi dà la cifra di quanto possa essere incasinato questo mercato di riparazione di gennaio, è così, quindi probabilmente Antonini rimarrà al Taranto, Tascone andrà al Foggia, giocatori che sembrano ormai già fatti, poi alla fine tutto si dissolve in una bolla di sapore e questo però fa male allo spogliatoio, professore lei cosa ne pensa a tal proposito? Come detto in precedenza non è retorica, non è frase fatta, magari può andare a scalfire determinati spogliatoi, però i ragazzi sono concentrati e non può essere altrimenti anche con mister Capuano sull'obiettivo di domenica, sull'obiettivo giornaliero dell'allenamento, ovviamente come ci stiamo dicendo il calcio è cambiato, il calcio è molto particolare soprattutto in questa finestra di mercato, però ripeto abbiamo la fortuna o la fortuna di preparare una squadra seria che è sempre concentrata su quello che deve fare sul campo. Allora vediamoci questa scheda, divito di noi, questa è la grafica del nuovo Taranto, quello che è sbocciato in base ai nuovi arrivi, noi mettiamo Tascone poi se firmerà o no vedremo insomma, se andrà a Foggia o no vedremo, comunque Miceli, centrale difensivo, Luciani e Rigio, questa dovrebbe essere la difesa qualora dovesse partire Antonini, ecco queste sono tutte supposizioni, poi Mastro Monaco, Calvano, Tascone e Ferrara oppure Fiorani o Zonta perché lì su quella casella gialla c'è una soluzione già pronta e poi Canutè, De Marchi e Bifulco. Poi c'è l'ipotesi Falco perché Capuano ha detto io non demordo, ci però fino alla fine sogno perché sognare non costa nulla e chi non sogna non vive, lo sentiremo tra poco e quindi Falco si sta allenando, oggi c'era ancora Falco? No oggi no, però non l'hai visto? Semplicemente perché ha avvisato il misto è che però... Bene, vediamo con l'ipotesi Falco il Taranto come sarebbe, vediamo ecco questa grafica, vedete Luciani, Miceli e Rigio, Pannucchi tra i pali, Mastro Monaco, Calvano, Tascone, Zonta o Fiorani, Ferrara dall'altra parte, Falco, Canutè, Bifulco e tanta roba, tanta roba, comunque anche se togli le scritte in giallo. Poi lì c'hai Orlando che non abbiamo messo, abbiamo Fabbro, ci sono tutti i giocatori che hanno giocato anche in Serie B che sono giocatori di grande livello e quindi diciamo che il percorso del Taranto è tracciato in questo campionato, Roberto che ne pensi? Sì Gianni, ma guarda com'è strano, all'inizio del campionato, è inutile che ci prendiamo in giro, dove arriviamo, dove non arriviamo, adesso poi vai a vedere questo tipo di schema con questi giocatori e dici mamma mia tanta roba, io ripeto non sono per nulla preoccupato, il Taranto ha un'identità, il Taranto ha un pubblico che lo sta seguendo, c'è un'area bella intorno al Taranto, non facciamo gli autolesionisti, non ci facciamo del male da soli, diamo fiducia a chi fino ad oggi ci ha portato quasi al secondo posto in un girone importante, restiamo calmi, Antonini giustamente era anche qui stasera all'inaugurazione del club, poi ripeto, va via, resta, non è un giocatore che fa cambiare il percorso che una società vuole portare avanti, dispiace a livello umano, però i giocatori che abbiamo sono fortissimi, io ricordo questo centrale che me lo ricordo col Francavilla e Miceli è un giocatore importantissimo, non è da meno di, sicuramente di Mattias, però è un giocatore che forse segna meno, ma a livello di prestazioni è uno che ti dà delle prestazioni importanti, quindi ripeto, vediamo di giocare, poi posso dire anche una cosa Gianni, è anche bello vedere gente che si deve fare questo girono di ritorno con la consapevolezza di dover dimostrare, cioè tu potevi anche rischiare di gente che ha dimostrato fino ad oggi, insomma e arriva anche un po' stanca un girono di ritorno, qui hai gente che tu la intervisti e ti dice mi metto a disposizione e devo dimostrare. Ok, rilassiamoci due minuti adesso, la scheda con le immagini di Taranto Picerno negli scatti magistrali di Walter Nobile che salutiamo e ringraziamo, fotografo ufficiale del Taranto Football Club che il nostro Gianfranco Medillo ha montato con la nostra ormai musica di sottofondo di tutte le settimane, di tutti i martedì. Grazie a tutti! Allora, volete sentire Capuano quello che ha detto a proposito delle partenze, di queste ipotesi? Sì, dai, così si fa un po' di chiarezza. Ovviamente ieri abbiamo mandato tutta l'intervista, poi sui nostri siti e sulla nostra pagina YouTube potete andare a sentire quando volete, noi vi mandiamo un 50% le dichiarazioni perché l'intervista durava 11 minuti, abbiamo anche da farvi vedere il bellissimo servizio di stasera di Leo Spalluto a Castellaneta dove c'era anche Antonini per l'abbraccio del pubblico di Castellaneta che ha creato questo Taranto Club con il Presidente, c'era Capuano, c'era tutta la squadra. Il percorso del Taranto senza Antonini e Romano, quali obiettivi ha adesso? Ma io mi auguro che il percorso sia con Antonini e Romano. muore un papa, si continua a giocare. Perdiamo due giocatori importanti, sicuramente non ci faremo trovare impreparati. Cosa posso dire? Voi sapete la stima che io provo per Antonini, sono arrivato a dire se avessi una figlia femmina gliela farei sposare. Però poi bisogna dire le verità. Il fatto di dire che Giove lo vuole vendere a me mi girano i coglioni. Perché non è così? Sto dicendo in Euro mondiale vada per tutto se Antonini viene da Capuano, nemmeno dal Presidente, e dire io voglio rimanere a Taranto, a me, e il Taranto lo vende, io mi dimetto. Ma bisogna avere la forza nella vita di prendersi le responsabilità. Non è giusto quello che sento. Non è giusto nella maniera più assoluta. Ma scusate, noi stiamo facendo un capolavoro. Lascia perdere che la classifica in questo momento non va. Ma io vedo che siamo a un punto dalla seconda. Facendo un capolavoro noi ci vogliamo indebolire. Ma siete malati di mente tutti? Decidono di andare via. Prenderemo sostituti. Magari non importanti come loro. Ma cercheremo di prenderli. Sicuramente non saremo fermi. Intanto domani arriva Miceli. Ormai è già fatto l'accordo con il calciatore, con la società di appartenenza alla Turris. E poi quest'altro calciatore, che ruolo? Quell'altro che è annunciato, chi è e che ruolo ha? Miceli arriva domani. E se qualcuno decide di andare via dobbiamo rimpiazzare. Siamo il Taranto. Io sono garante di un popolo e Massimo Giove sta facendo sacrifici illimitati. Non posso stare fermo. Nessuno può pensare che sono un incapace. Penso di averlo dimostrato. Quindi è normale. Va via un giocatore e dobbiamo essere pronti per prenderne un altro. Chi arriverà dovrà avere la stessa voglia, la stessa benegazione, la stessa di chi è rimasto con noi. Ma senza fare nessuna polemica. Io capisco tutti. Li voglio bene a tutti. Li ho trattati come figli. Però speculare sul Taranto questo non lo permetterò a nessuno. Ognuno, dico ognuno, me per primo, che prende una decisione deve prendersi le proprie responsabilità. E non buttare merda, perché questo non è giusto. Io dico se un giocatore è stato bravo nella fase contrattuale e il procuratore è stato ancora più bravo, chapeau e complimenti, nella maniera più assoluta. Perché c'è un contratto e i contratti vanno rispettati. Però nessuno si permetta di dire che noi vogliamo fare cassa, che noi vogliamo vendere e che noi vogliamo fare. Questo non lo permetterò a nessuno. A nessuno. Il Taranto andrà avanti. Vanno via? Mi sento orgoglioso. Vuol dire che ho rinventato altri giocatori che magari erano in una fase della propria carriera non ottimale. Ma non mi succede solo quest'anno, mi succede spesso. Quindi vuol dire che io sono bravo, che i giocatori sono stati dei fenomeni sotto l'aspetto dell'applicazione e dell'abbregazione e che la società ha dato tanto e che la città ha dato tanto, senza nessuna polemica. Il mio intervento è doveroso nel dire che nessuno pensi che noi ci vogliamo indebolire. Noi miglioreremo la squadra. Se poi abbiamo tanti giocatori richiesti, a questo noi ci fa piacere. Però attenzione. Noi abbiamo tanti giocatori che ce li richiedono, ma non abbiamo dato via nessuno. Quindi abbiamo dimostrato forza. Se poi ci sono altre situazioni dove sono stati bravi, attenzione, dove sono stati bravi chi gestisce il giocatore e il giocatore, e lì non si può fare nulla, i contratti vanno rispettati. L'importante è che ognuno si assume le proprie responsabilità. Quindi la notizia è che il Taranto non sta smantellando, anzi rilancia. Il Taranto rilancia. Rilancia avendo preso un giocatore forte, mi assumo la responsabilità, De Marchi, avendo preso quasi sicuramente Miceli, un giocatore che ha vinto, no ha vinto o no, è arrivato secondo con me a San Benedetto del Trondo, dove conosco prima l'uomo e poi il giocatore, e in queste ore stiamo chiudendo uno dei giocatori, secondo me, più forti in assoluto della categoria. Che ruolo? Eh no, questo non lo dico. Il ruolo soltanto non lo dico. Mentre, a proposito di un Taranto che vuole rilanciare, io anche oggi ho visto Falco, tra l'altro lo stai provando sugli esterni, cioè state facendo un lavoro tattico, c'è un'ipotesi anche se remota che possa rimanere in maglia rosso-blu per questa seconda parte della stagione? Allora, Falco, uno, è un ragazzo meraviglioso, due, Tarantino, si sta allenando con noi. Se tu mi dici per prendere Falco che farei, sarei disposto per il Taranto a togliermi due litri di sangue, anche in questo momento, e prendere Falco. Al momento Falco è un sogno irraggiungibile, però nella vita mai dire mai, non so se rendo l'idea. Falco l'ha chiamato qualche squadra importantissima di C e lui davanti a me ha detto in C vado solo a Taranto anche gratis ma non in C. Per me Falco merita l'A, in B è letteralmente sprecato. però mai dire mai, chi smette di sognare, caro Gianni, ha smesso di vivere. E perché non dovrei sognare di portare Falco a Taranto? Potrei rimanere nella storia per aver fatto questo, no? E perché non dovrei sognare all'ultimo momento di portare Falco? E' impossibile, è come portare un giocatore, però, mai dire mai, è impossibile, lo so. Però chi smette di sognare vuol dire chi ha smesso di vivere. Intanto Roberto siamo alla seconda di ritorno, domenica ci celebreranno la terza, Messina-Taranto, tra l'altro un classico. Vediamo la classifica aggiornata, ventunesima giornata, ecco, molto, molto, molto corta. Perché sei squadre sono in due punti, e cioè dal Benevento che ne ha 36, che è al settimo posto, a Lavellino che è sulla piazza d'onore, ci sono in due punti, ci sono sei squadre, quindi può succedere di tutto. Per esempio che il Benevento, che è settimo, possa arrivare al secondo posto in 90 minuti, no? Beh Gianni, intanto diciamo che è una bellissima classifica, cioè vedere il Taranto a un punto dalle seconde. Cioè intanto diciamo che veramente, quando riguardiamo un po' le partite che abbiamo giocato, diciamo sempre che al Taranto mancano almeno due punti, veramente il Taranto doveva stare al secondo posto da sola. Quindi è bellissimo vedere questa classifica, ed è questa che ci fa essere fiduciosi per il futuro. Poi la classifica è corta, guardiamo chi abbiamo davanti. Juve Stabia, Avellino, Casertana, Crotone, il Benevento sta sotto di un punto, tutte squadre Gianni che hanno fatto squadroni con budget importanti. Intanto guardando la classifica, vediamo gli scontri diretti. Col Piceno li abbiamo chiusi, abbiamo giocato sia la nave che il ritorno. Mentre abbiamo in casa due grosse partite importanti, che sono quella con l'Avellino e quella col Benevento nel giorno di ritorno. Mentre fuori casa ne abbiamo altre tante, cioè due, Caserta e Crotone, no? E Juve Stabia anche. E Juve Stabia, sì. Vabbè, io la prima non l'avevo, guardavo dalla seconda al Benevento, alla settima. Anche se, comunque, la Juve Stabia è vero che ha qualche punto in più, ma sono sei punti, vale a dire, rispetto a quello che abbiamo vissuto nella passata stagione dove due squadre, una in particolare, si erano isolate completamente con 20-25 punti di distacco dal gruppo. Qui siamo tutti lì, è vero prof? Sì, sì, assolutamente. La classifica è molto, molto corta. in una partita, in 90 minuti, può cambiare anche le sorti di una stagione. Quindi anche un pareggio ha il suo significato. Come no? In una classifica così. Certo, certo. Soprattutto negli scontri diretti. Gianni, bisogna muovere sempre la classifica, fare risultati utili. La classifica è molto corta, sia davanti che anche sotto. C'è gente che si può ritrovare veramente in un secondo giù nella zona dei play-out. Il campionato è bellissimo, le squadre sono tutte rinforzate, si stanno rinforzando quelle che stanno sotto, perché nessuno vuole scendere in Serie D, quindi tu ti ritroverai a giocare con squadre che rispetto al girone di andata saranno molto più competitive. Questa è una cosa importante. Quindi, ok, gli scontri diretti, ma attenzione alle squadre. Vedi quello che è successo con Messina, Messina è andato a vincere con la Casertana e noi ce la dobbiamo trovare contro. Quindi è un campionato diverso, inizia un altro campionato. Donato scrive, buonasera, Capuano sta dimostrando di essere il migliore allenatore della Serie C. Continuiamo a fidarci e alla penultima ci giochiamo la Serie B con l'Avellino in casa. Sono un tifoso della Virtus Francavilla, complimenti al Taranto per quello che sta facendo, merita una piazza del genere di tornare in Serie B, è quanto scrive questo tifoso. Poi speriamo che sia da avere un buon giocatore, però non è specificato a chi si rivolge, forse a De Marchi. Buonasera, ma De Santis è fuori rosa o infortunato? Uno e l'altro, diciamo che al momento mi pare sia fuori lista, però è infortunato. Sì, infortunato, Sivivan sta lavorando col prof Rizzo per un problema articolare al ginocchio e quindi si sta allenando col prof in attesa comunque di vedere il suo stato di forma. Se posso approfitto della tua presenza per chiederti un po' quella che è stata la preparazione durante il ritiro. Cioè è un Taranto decisamente in salute. Credo sia chiaramente tutto programmato sul tabellino di marcia che avete programmato voi durante il ritiro. Se ce ne vuoi parlare un attimo. Sì, certo, mi fa piacere che l'opinione pubblica abbia notato questa cosa, anche se da preparatore non mi piace ragionare a compartimenti stanni. Comunque quando la squadra corre è perché anche altri aspetti, soprattutto quello mentale, fa la sua parte. Comunque ritornando sulla domanda, il ritiro abbiamo lavorato tanto, come lavoriamo tanto in settimana. Ed è davvero dimostrabile anche attraverso dei dispositivi che la società ci ha messo a disposizione. Non sono delle azioni sempre scontate in queste categorie. In ritiro abbiamo fatto un lavoro profondo. Rientrati in sede abbiamo iniziato a sviscerare degli aspetti un po' più specifici che stanno adesso riportando anche i suoi risultati. E soprattutto sono degli aspetti che vengono insaltati grazie al gioco di mister Capuano. Perché comunque è una squadra sempre che cerca di andare in avanti, di essere molto aggressiva. Ovviamente se non hai una condizione fisica che ti permette di farciò, rischi di fare magari delle magre figure. In questo momento la squadra, faccio i dovuti scongiuri, è in salute, ma perché si allina sempre a mille. Perché è sempre lì a voler magari sopravvalere sull'avversario. Quindi, perdonami, da quello che tu stai dicendo, se non ho capito male, in base a quello che è il modulo e l'intenzione del mister, c'è anche un tipo di preparazione? La preparazione fisica moderna, chiamiamola così, è molto influenzata dagli aspetti tecnici, dagli aspetti tattici. In questa fase magari di campionato si vede molto, perché avendo magari un atteggiamento più offensivo, ti ritrovi sempre a giocare uomo contro uomo e soprattutto andando a lavorare sui duelli individuali, se non hai una buona condizione fisica, quindi sotto l'aspetto sia organico sia muscolare. Sono degli aspetti che noi curiamo tanto, come ho detto in precedenza, magari rischi di fare delle cattive figure. Adesso la squadra è in salute e quindi si nota quel plus in più magari rispetto ad altre squadre. Anche domenica, anche venerdì, dopo l'1-0 la squadra ha continuato a giocare. Poi abbiamo preso gol, magari altre squadre si possono abbatere, noi abbiamo continuato lì e lì c'è tanto di aspetto mentale, però è a sostegno anche la condizione fisica. Adesso c'è il girone di ritorno, si continua su quell'iter? Sì, allora diciamo che ho la fortuna di lavorare in uno staff largo, mettiamolo così, dove c'è la figura di mister Capuano che per noi, per me, non c'è covedia del calcio, c'è mister Zangla con cui abbiamo stabilito, abbiamo programmato una tabella di marcia, mister Marinacci e ho la fortuna di avere al mio fianco, e approfitto per ringraziare il prof Frizzo perché è un validissimo collaboratore. Lo conosciamo. Assolutamente sì, assolutamente, quindi non abbiamo molto spesso delle settimane pulite, una settimana pulita può essere questa, abbiamo giocato venerdì e quindi giochiamo domenica, l'altra può essere pulita, poi ricominciamo a giocare di sabato, poi c'è il turno in franza settimanale, quindi abbiamo già programmato il nostro rullino di marcia, ovviamente nelle settimane, in queste due settimane in cui possiamo lavorare, non andiamo a stravolgere più di tanto, però qualche stimolo in più alla squadra va dato. Ecco, Valentina Corvaglia scrive, qualora Antonini dovesse rimanere, non si potrebbe creare, alla luce di quello che è accaduto durante questa sessione di mercato, qualche problema nell'equilibrio interno dello spogliatoio, guardate, qui il prof lo può confermare, stiamo parlando di un calciatore di una serietà e di una professionalità che in tanti anni di calcio io ho visto rare volte, non so se voi siete d'accordo, però io che l'ho conosciuto personalmente e che lo conosco personalmente, che so bene come la pensa, e che tipo di ragazzo è, questo problema proprio non c'è. Mi piace anche sottolineare che si rapporta all'interno di un spogliatoio con gente altrettanto intelligente, altrettanto professionale, quindi ognuno di loro sa che c'è un percorso di ogni giocatore e qualora rimanesse ovviamente la squadra, la società, la piazza, sarà ben liete di tenere Mattias. Sì, ma anche perché poterà le altre cose, Gianni, quando l'abbiamo avuto qua, lui ci ha confermato che a Taranto sta benissimo, cioè lui è contento di Taranto, è contento della città, dei tifosi, è solo una questione di opportunità di crescita della carina del ragazzo, punto, basta, stop, solo questo. Intanto Carlo Conto ci chiede una valutazione sulle condizioni atletiche di De Marchi. Allora, Michael comunque è un giocatore funzionale per il gioco di Mr. Capuano. Se mi chiedessero qual è la caratteristica che è spiccata in questo senso di allenamento, è sicuramente l'attacco della profondità. Questo è direttamente proporzionale ovviamente anche al suo stato fisico. Si vede che è un giocatore che ha gamba. Ovviamente il minutaggio, avendo magari giocato meno a Padova, bisognerà comunque andarlo a… È utilizzabile un suo utilizzo dall'inizio a Messina, per esempio? Lui fisicamente sta bene. Ovviamente, come dicevo prima, il minutaggio… Il minutaggio è sempre a discapito dell'allenatore di Mr. Capuano in questo senso, però comunque il giocatore è disponibile. Parliamo di condizioni atletiche. Sì, sì, no, il giocatore… Se Capuano dovesse decidere, per motivi suoi, di mandarlo in campo dall'inizio… È un giocatore che garantisce comunque la presenza dal primo minuto. Il giocatore è pronto. Alessandro Baderusso scrive, faccio complimenti al preparatore atletico del Taranto, il prof Giuseppe Ciciriello, persona preparatissima e follemente professionale. È un capuano dei preparatori così. Grazie mille. Forse questo è uno dei più belli complimenti che mi potessero fare quando mi vanno a provare a paragonare… Anche tu parli di grandezze di… No, io cerco di essere… Di utilizzare un vocabo di preparare lì un po' più fast, un po' più veloce, però essere accostato al mister è motivo di orgoglio, anche perché questa persona non lo conosco. e quindi per noi preparatori che lavoriamo dietro le quinte, quando magari la piazza nota, non il lavoro in campo, ma soprattutto la professionalità, l'attaccamento a quello che si fa, la passione con cui lo facciamo, è il risultato, è il regalo più bello che… Tu sei sempre stato con Capuano? Io ho avuto la fortuna di incrociare il mister l'anno scorso, tramite delle persone, tramite il mister Vincenzo Marinacci, tramite un direttore che ho avuto in passato, e in due anni mi ha insegnato davvero tanto. Noi preparatori atletici siamo un po' all'oscuro della parte tecnico-tattico, invece con mister Capuano ho imparato tanto, magari sono cose che potrebbero non servirmi, però mi ha insegnato tanto sotto l'aspetto umano e sotto l'aspetto ovviamente tecnico-tattico. Allora, per quanto riguarda invece un altro aspetto, noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quando in questi studi era ospite il Presidente del Taranto Massimo Giove, la questione stadio, non la sottovalutiamo, perché è un tema importantissimo. Al momento, alla luce di quello che è stato il sondaggio, fatto precedentemente, l'ultimo, dal Taranto, per individuare un campo, qualora l'Oio Comune fosse stato smantellato prima della stagione in corso, due stadi erano disponibili, perché lì poi c'è l'intervento delle amministrazioni comunali, della società di appartenenza, due stadi erano disponibili, Vivo-Valenzia, 330 km, Teramo, 500 km, quindi non c'era altra disponibilità, considerando che Brindisi ha ancora dei problemi di natura logistica che vanno risolti. E allora, qualora il Taranto dovesse essere promosso in Serie B, dove si gioca? Qualora il Taranto dovesse rimanere in Serie C, dove si gioca? Una settimana fa noi abbiamo lanciato anche un appello all'amministrazione comunale, al sindaco Melucci, che è anche il presidente della provincia di Taranto, perché il Taranto non è un bene della città, è un bene dell'intera provincia ionica, è una squadra che ha più di 100 anni di storia e che milita nel campionato di professionisti. Quindi è importante che tutti insieme si concentrino su questa tematica che adesso diventa una problematica. A distanza di una settimana, Roberto, non abbiamo avuto nessun segnale, nessuna presa di posizione, nessun, almeno ufficialmente, nessun messaggio di fumo, vale a dire, vediamo come fare per risolvere questo problema, vediamo quale può essere il percorso più giusto da intraprendere, per far sì che poi non si arrivi al 5 giugno e dobbiamo guardarci in faccia e dire oh, e mo' dove andiamo a giocare? Questa è una cosa che si sa dal 24 agosto del 2019, e cioè da quando a Patrasso fu sottoscritto quel contratto che assegnava a Taranto i giochi del Mediterraneo. E in quel masterplan c'era anche la ricostruzione dello Stato di Acomone. E quindi si arriva alla vigilia di questo evento, perché a ottobre inizieranno i lavori per la ristrutturazione dello stadio del Rione Salinella, si completeranno nella primavera del 2025, questo del 2026, questo significa che per due campionati il Taranto dovrà emigrare, col fagottino, ce ne andremo a giocare chissà dove. Ci vogliamo interessare a questo problema? Allora noi faremo questa battaglia, giornalistica, ci mancherebbe. Sollecitiamo, sensibilizziamo, più che sollecitiamo, tutti, a cominciare dall'amministrazione comunale, chiameremo anche in causa il governatore Emiliano, per dire, lei cosa ne pensa, visto che parliamo di un bene della Puglia, cosa possiamo fare per trovare una casa a questa squadra, che è un patrimonio sportivo, pugliese, tarantino, che cosa si fa? Tutti, zitti, il silenzio è assordante. Gianni, purtroppo, devo dire, ahimè, non sono sorpreso, purtroppo è un silenzio che manifesta ancora una volta la non vicinanza di questa amministrazione, mi dispiace dirlo, a quelli che sono poi i problemi, parliamo di calcio in questo momento, del Taranto Calcio e quindi della città. Come mi rivolgo anche all'assessore Gianni Azzaro, che è una persona che conosciamo bene, ci siamo visti insieme, i Taranto Turris a Genova, abbracciandoci ad ogni gol del Taranto. Quindi ci tieni a questa squadra, è palese. Pensiamo, vediamo come fare, contattiamo la società, proviamo a capire quale può essere la soluzione, ma se non ci pensiamo, se nessuno ci ragiona, se la società viene lasciata sola a dover fare soltanto dei percorsi ufficiali, scusate, una PEC, posso giocare? No, è difficile, è anche la politica che deve intervenire in queste circostanze. Gianni, ma sicuramente, però voglio dire, una soluzione la possono trovare, si può giocare, si potrebbe giocare vicino Taranto, credo che il Presidente, tu gli hai fatto la domanda, tu gli hai chiesto di fare Gianni, giusto Gianni, quella sera, e il Presidente ha risposto. Cioè, io credo che quando c'è la volontà, da parte delle istituzioni, di mettersi insieme, e in maniera molto veloce, creare qualcosa di nuovo si fa, il problema è che qui probabilmente non gliene frega niente a nessuno, Gianni, quindi è inutile che ci giriamo intorno, non sono mai stati vicino al Taranto Calcio, abbiamo visto qualche volta qualcuno con la maglietta del Taranto presentarsi allo stadio, però alla fine è la verità che il Taranto rischia, come tu hai già detto, di giocare due campionati fuori, tu dici di giocare, ma scusa Gianni, ma chi è questo pazzo che giocherebbe due anni fuori, cioè io no, fossi il Presidente del Taranto, se domani mattina si presenta una situazione del genere, direi signori, queste sono le chiavi, prendetevelo voi, punto, ma due anni fuori, ma fuori da cosa, fuori dal mondo, ma fuori dal mondo, il Taranto deve fare le partite casalinghe a Teramo, e noi spettatori dove andiamo? Andiamo a Teramo a vedere le partite? Oppure a Vibo Valenza che sono 300 km, che sarebbe la soluzione migliore alla luce di quello che sta accadendo. E io ho un'azienda e faccio lo sponsor al Taranto? Cioè ragazzi, ma è follia pura. Allora, ho qui veramente qualcuno si interessa del problema enorme che c'è, o altro che Antonini, Cianci, Francesca e Giovanni, qua c'è un problema grosso, qua manca il giocatore principale per l'anno prossimo, si chiama stadio, qualcuno lo vuole capire o no? Qui il problema non è né Antonini, né Cianci, né Roberto, né Gianni Sebasti, il problema è che il Taranto non avrà una casa, quindi le indignazioni da parte di cittadini, tifosi, dobbiamo averlo, più su questo, che non se un giocatore vuole fare una carriera più importante. Preoccupiamoci oggi del problema stadio, perché io veramente non oso immaginare, tu l'hai detto l'altra volta, Gianni, il Taranto non accade, ma se accade dove andiamo a giocare? Quindi veramente l'invito è Gianni, anche noi, anche tu nelle trasmissioni che fai, iniziamo come abbiamo fatto l'altra volta a chiamare i signori, assessori, poli, facciamo un'intervenire Gianni. molti dicono andiamo a Brindisi, ma a Brindisi si può giocare, possiamo andarci, qualcuno ha avanzato questa richiesta, c'è una possibilità di andare, si potrebbe andare anche a Francavilla, Fontana, ma il Comune di Francavilla e la società si prendono in carico di ospitare per due campionati la tifoseria, la squadra, bisogna tenere conto anche queste cose, allora bisogna subito correre ai ripari, bisogna organizzarsi per far sì che non ci siano difficoltà, per far sì che poi la gente di Taranto non rimanga senza squadra, perché è così, perché questo è quello che si dice, noi stiamo pensando dal mercato, dal Tonini, alla partita con Messina, poi arriviamo a giugno e abbiamo finito, non si gioca più, oppure si va a giocare a terra. E secondo noi un giocatore che vuole fare questo di mestiere non lo pensa? Cioè il Presidente ne ha parlato tranquillamente in maniera giustamente aperta l'altra volta, quindi è anche un giocatore che ha un contratto e preoccupato di dove andrà a giocare, tutto questo mix di situazioni non positive contribuisce a far decidere a un giocatore e dire vado via oggi che chissà domani dove vado a giocare. Ecco perché secondo me le istituzioni si devono muovere Gianni, noi se possiamo aiutare a fare chiarezza facciamolo, chiamiamo i protagonisti dall'assessore allo sport al sindaco che non ci ha mai risposto nella sua vita, al Presidente della Regione, però aiutiamo questa società ad avere delle risposte, ma più che risposte a fare veramente qualcosa, perché il problema non è tra un anno, il problema è domani mattina, il campionato finisce, siamo al girone di ritorno. Allora, è passata una settimana, da quando abbiamo lanciato l'allarme siamo stati gli unici perché non ne sta parlando nessuno degli organi di stampa, siamo gli unici e questo non è un merito assolutamente, però magari se ci seguono è anche meglio, nessuno ne sta parlando e noi lo faremo, lo faremo sempre, fino a che non avremo un segnale di vita, fino a che non avremo un barlume di speranza, finché in fondo al tunnel non si vede quella luce piccola che ci dà la speranza di poter almeno tutti insieme lavorare per trovare una soluzione a questo problemone, a questo problemone, perché poi se a giugno non si sa dove andare a giocare, i cacciatori che stanno, è logico che devo dire scusate, ma io mi vado a trovare una squadra, io ho 25 anni, mi devo fare la mia vita, la mia carriera, qua voi non sapete dove dovete giocare, lasciatemi andare, no? Ma certamente, Gianni è così, non è soltanto il problema di prendere le valigie e viaggiare, è chi viene a giocare, li fa a squadra i giovani, ma è così, è così, c'è gente che ha famiglia, cioè ragazzi, è gente che... Giovani juniori, sono tutti juniori. Scusami, abbiamo un prof, penso che anche il prof si faccia la domanda l'anno prossimo dove, come, cioè è tutto un sistema che non porta energie positive in questo momento, cioè ecco perché secondo me, e io invito i tifosi, tutti, quelli che vogliono bene al Taranto, visto che siamo tanto, tutti siamo bravi sui social, bene, iniziamo a parlare sui social di questo problema, facciamo da cassa di risonanza, tutte le mattine parliamo dello stadio e facciamo muovere chi di dovere, che certo non sono né io né il prof. E qui volevo fare un appello al nostro amico perché lo conosci bene anche tu, Gianni Azzaro, vice sindaco allo sport. Assolutamente, per benissimo. Interessiamoci, parliamo, fate in modo che ci sia un contatto tra l'amministrazione comunale, la società, non so adesso quale suggerimento ma non hai bisogno di nessun suggerimento per un appello accorato, quello che facciamo, non lasciamo passare altro tempo, altrimenti poi la situazione potrebbe diventare irrisolvibile e quindi pensiamoci, noi ne parleremo anche martedì prossimo, perché da martedì scorso ad oggi silenzio assoluto. Possiamo fare un invito ufficiale? Sì, certo. Lo facciamo? A venire in trasmissione a parlare con noi? Cioè, senza problemi. Noi siamo a disposizione, vedete qui, parlatene, cerchiamo di trovarlo insieme con i cittadini, con la gente, con questa partecipazione affinché si possa tutti insieme trovare una soluzione, il Taranto deve giocare a Taranto in questi due anni, magari ristrutturando il Paradiso, lo stadio di Dalzano, andando a rifare quello che si vuole fare a Faggiano. A Faggiano, c'è questa opportunità. Non andiamo fuori, perché dobbiamo andare fuori? Ci troviamo una struttura in più, investiamo su una struttura sportiva che poi potrebbe essere destinata alle piccole società, al settore giovanile, no? È tutto giusto quello che stai dicendo. Allora, detto questo, torneremo martedì prossimo. Allora, io devo ringraziare Sant'Escardillo perché ci dà l'opportunità di conoscere sempre bene il direttore di gara che avremo nella prossima partita, quella del San Filippo. Lo vediamo insieme velocemente. Eccolo qui, l'arbitro è il signor Andrea Calzavara di Varese, al quarto anno in Serie C, 77 presenze in Serie C, 399 le ammunizioni, 28 le espulsioni, 13 i rigori, tra i precedenti con i peloritani, Messina Civitanovese, Messina Savoia, Messina Turris, 4 con il Taranto, Taranto Pomigliano, 3 a 0, Foggia Taranto, 1 a 0, e poi Taranto Bari, 0 a 0, Taranto Picerno, Taranto Turris, l'ultima, quella di questo campionato, ha diretto inoltre nel girone C di questa stagione altre 4 volte, Benevento Virtus Francavilla, Cerignola Juve Stabia, Giuliano Brindisi e Picerno Avellino, gli assistenti arbitrali saranno Lorenzo Giuggioli di Grosseto, Ferdinando Pizzoni di Fratta Maggiore e quarto uomo Antonio Liotta di Castellammare, di Stabia, le note sono di Sante Scardillo. Allora, adesso vi devo lasciare, perché vi devo lasciare con un servizio bellissimo che abbiamo realizzato a Castellaneta, dove stasera, poco fa, è stato inaugurato un club Taranto rosso-blu dedicato a Erasmo Iacovone. Da quanti anni non si inaugurava un club di tifosi rosso-blu? Io non lo ricordo. No, neanche io. Cioè, forse sono passati vent'anni e più. Sì, Dai tempi di riga no. Sì, tanti veramente. E questa è una cosa bellissima, vuol dire che c'è di nuovo il giusto entusiasmo. Sono veramente, è una cosa bella. Ecco, ecco, questa è energia positiva, no? Quello che poi consente a qualcuno, a un presidente, a un giocatore, di dire, beh, però Taranto sta ritornando, no? Esattamente. Questa è una cosa molto bella. Grazie, prof. Grazie a voi. Giuseppe Ciciliello, grazie anche e soprattutto, lo devo dire, per la tua professionalità. Sono due stagioni che sei con il Taranto, quindi sono state due stagioni importanti. assolutamente una crescita, un percorso di vita, un percorso di vita, però sempre dietro le quinte, senza mai mettersi sotto l'occhio dei riflettori. È la nostra figura, quando i meriti sono ovviamente da dividere con tutto lo staff, come ho detto. Noi vogliamo citare, i collaboratori. Come ho detto, vabbè, mister Ezio Capuano, Cosimo Zangla, mister Vincenzo Marinacci, il mio collaboratore prezioso, collaboratore, il prof Francesco Rizzo, poi c'è tutta la parte medica, con il dottor Volpe, il dottor Di Pace, Livio, Mimmo, la parte logistica, con Maria Grazia, Francesco e la società. Poi adesso non si chiamano più massaggiatori, noi di solito li chiamiamo massaggiatori, ma lo facciamo come magari, a volte diciamo, il guardaline, non si chiama più guardalini, si chiama assistenti, centramanti, non si chiama più centramanti, si chiama punta centrale, però ogni tanto lasciatecelo un pizzico, il marcordino un anticismo di quel calcio che non c'è più. Grazie al professor Ciciriello, grazie a voi da casa che ci avete seguito, ma vedete questo servizio che ha realizzato per noi Leo Spalluto, l'entusiasmo, guardate che grande entusiasmo, c'era tantissima gente nel cuore di Castellaneta, che è uno dei comuni più sul versante occidentale della provincia di Taranto. Vediamoci insieme a questo servizio, intanto vi do appuntamento a martedì prossimo. Ministro Capuano, un'accoglienza eccezionale qui a Castellaneta all'inaugurazione di questo nuovo club. Ma non ci sono parole, cioè vedere tanta gente che siamo distanti da Taranto e questo senso di appartenenza è la nostra vittoria più notevole. Io posso rimembrare quando sono arrivato a Taranto e c'erano due o trecento persone, arrivare qui e trovare un paese in festa, lontano, perché non è che siamo vicini a Taranto, quindi per noi è motivo di orgoglio e queste sono le vittorie più notevoli. Speriamo di poter accrescere questo entusiasmo sempre di più, perché questo è stato il nostro obiettivo quando siamo arrivati a Taranto e oggi non stiamo vincendo, stiamo stravingendo non i risultati sul campo, quelli li lasciamo agli altri. Questo senso di appartenenza a questa maglia, inaugurare un club di uno che ha fatto la storia ed è morto mentre giocava per il Taranto. Quindi il mio pensiero va alla signora Iacovone che io ho un rapporto importante anche se non mi sento soventemente. Quindi il mio ringraziamento personale della squadra. Siamo accompagnati da giocatori importanti, ho voluto che con me ci fossero i più rappresentativi, non i più rappresentativi come forza intrinseca del calciatore, ma la forza magari di quelli meno giovani. Con noi c'è l'Avvocato Sapia, Vicepresidente e ci sono io che ho finito l'allenamento e in maniera doverosa sono venuto qui. Non mi aspettavo un'accoglienza del genere, non mi aspettavo tanta gente e sono anche leggermente emozionato perché per me il calcio è l'emozione accoppiata alla commozione. Quindi in questo momento ci sono questi due sentimenti. Per me il motore è questo, per me non esistono i contratti, per me esiste l'amore verso quello che faccio quotidianamente e questi attestati di stima, questi entusiasmi sono la benzina che danno in me la macchina nel mettere nella macchina mia benzina per spingere sempre di più. Altre parole penso che sono superflua. Vicepresidente Le parole del mister sono il giusto preludio a questa inaugurazione? Sicuramente è una serata emozionante. Il mister oltre ad essere uno dei migliori allenatori sul mercato è diventato anche uno dei migliori oratori del calcio ma non solo quando parla di calcio ma quando parla di altro. sono molto emozionato sono molto emozionato per due motivi innanzitutto non mi aspettavo di essere qui perché doveva esserci il presidente Massimo Giove che saluta tutti quanti voi e vi ringrazia in maniera veramente affettuosa ciò che voi avete fatto qui a Castellaneta è un qualcosa di molto importante il presidente Giove si scusa ma impegni di lavoro pensava di essere qui ma non ce l'ha fatto io sono stato sradicato dalla mia scrivania e catapultato qui in questo momento ma non potevo non esserci per una questione anche affettiva certamente ciò che noto e ciò che si concretizza è oltre all'ottimo andamento della nostra squadra di calcio il merito è del mister Eziolino Capuano dei giocatori che sono una parte qui presenti il merito va soprattutto a Massimo Giove che in questo momento è riuscito non solo a riportare il calcio a Tarato a un livello interessante ma soprattutto è riuscito a portare consenso a Taranto nel nostro territorio e devo dire anche in provincia e questo lo vedo dagli sguardi dai sorrisi degli amici che trovo qui e l'aver riportato l'aver riportato il consenso verso la squadra di calcio verso il nostro Taranto Calcio credo che il merito sia tutto del nostro presidente Massimo Giove unitamente a mister Eziolino Capuano un binomio e una coppia secondo me infallibile che potrà ancora produrre grandi risultati per la nostra città permettetemi di dire una cosa che ripetevo al vostro direttore Gianni Sebastio mentre arrivavo a Castelaneta in questo momento possiamo dire che forse e me ne assumo le responsabilità l'unica cosa che va bene a Taranto e nel territorio tarantino in questo momento forse anche drammatico per altre cose è il Taranto Calcio tutto il resto onestamente è molto è molto è molto è molto inbilico tutto il resto con molta sincerità lascia anche certe volte a molti di noi non dormire la notte però il Taranto Calcio in questo momento può essere foriero di aspettative può essere l'inizio di una ripresa e di una ripartenza il merito va al nostro presidente al nostro mister ai nostri ragazzi che sudano la maglia va al Taranto Calcio ma soprattutto andrà a voi tifosi che aumentate la schiera del consenso e Castellaneta devo dire ha dato un grande contributo e sono certo che lo darà grazie due parole Gianmarco Vannucchi ovviamente è il tifo è quello che rende più bello il vostro lavoro sì certamente mi ricollego a quello che ha detto il mister innanzitutto siamo onorati di aver inaugurato un club così importante lontano da Taranto come chilometraggio però appena siamo arrivati ci hanno fatto subito sentire il calore e l'affetto dei nostri tifosi sì i tifosi l'abbiamo visto anche in tutte le partite in casa sono fondamentali per noi e speriamo di continuare a fare questi numeri così importanti facciamo dire due parole anche a Bifulco naturalmente è un'occasione molto bella un'accoglienza eccezionale ma sicuramente siamo contenti di ricevere questa accoglienza di aver aperto questo club e siamo contenti siamo veramente orgogliosi di questa cosa Zonta è un'emozione particolare per tutti voi assolutamente sì comunque si vede il calore di questa piazza è fondamentale per noi in campo ci dà una spinta veramente importante soprattutto quando giochiamo in casa ma anche in trasferta siamo molto seguiti questo a noi fa sicuramente piacere Cataldo Cellammare avete fatto una cosa bellissima qui a Castellanese stupenda finalmente abbiamo raggruppato tutte le anime storiche del Taranto dalla vecchia guardia qui presente stasera a tanti giovani a tanti ragazzi che ho scoperto che seguono il Taranto perché noi con la nostra età ma volevo dire soprattutto e ringraziare la signora Paola Raisi che grazie a Lise questa sera stiamo qui e stiamo diciamo così inaugurando questo club Eugenio Sacchetto Presidente grande emozione questa a dir poco grandissima emozione qual è la sensazione che sta vivendo in questo momento è una sensazione che non sto nella pelle in sindesi perché già ringrazio veramente tutti i presenti che sono stati tantissimi e questo vuol dire che abbiamo avuto un bel successo ringrazio il mister e i giocatori presenti a Grazie a tutti.